Ciao ragazzi, sono Francesco da Spoda Home Room ora sono in via Prenestina, in Prenestina con Latina Zaria abbiamo una metro station chiamata Montiti Burtini con 5 minuti di walking abbiamo anche in strada tram stop e bus stop quindi questa zona è ben collegata al centro, all'università, a tutti. ok, vediamo l'apartamento, questa è l'entranzo e l'interno ok, questa è la porta, e vediamo l'interno ok, abbiamo questo buon corridor e questa piccola biblioteca, molto bello, è nuovo questa è l'interno numero uno questo appartamento è un appartamento un appartamento chiave abbiamo tre appartamenti questa è l'interno numero uno, l'interno numero due e l'interno numero tre ok, proviamo a vedere abbiamo wifi ok questa è la cucina, proviamo a vedere la cucina, ok abbiamo tutti i 4 uniti che bisogna un grande friggio una macchina una macchina e una cucina ok questo piccolo ovano e questo grande ovano ok con e gas e in la cucina abbiamo questo balcone con il ruolo numero uno ok e questa è la vista ok ora proviamo il ruolo numero due è un ruolo ok questo è il ruolo numero due ok ok ora è gratuito con una sola casa con un luogo con una casa con un luogo una cappella con un ruolo un luogo and the same view from the kitchen ok also we have this door now it's working on and this door we became in a few days like this new door ok, very new the landlord is changing this whole door ok, and this is the bathroom it's quite big ok, we also have a sick toilet all furniture you need and this big shower ok also we have this window ok and this is the view you can see the rail of the tram ok ok so guys also we have the room number 3 and here we have a little closet it's very important ok 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 guys I hope you like this very nice apartment in Rome via Prenestina I want to remember you that this apartment is well connected to the center and it's very nice so bye from Francesco's spot a home road ciao 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 ciao